Da uno di questi rami giovani bisogna selezionare il capo a frutto, che cos'è il capo a frutto? Il capo a frutto è quel ramo che andrà a avere le gemme, su queste gemme si produrranno degli altri rami, da questi rami sarà possibile avere dei fiori che produrranno poi uva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS